Intanto io do il benvenuto qui con me alla leader dell'opposizione di Fratelli d'Italia, buonasera Giorgia Meloni, abbiamo molti argomenti di cui parlare, oggi è una giornata campale, quindi comincio con la copertina, rimettiamo insieme tutto l'accaduto che è appunto di Marilena Vinci e entriamo subito nel merito. Giornata calda per il governo che tira le fila sul tema più divisivo del momento, il Green Pass. Il presidente del Consiglio Draghi, determinato a dare un'ulteriore spinta alla campagna vaccinale e a scongiurare nuove chiusure, resiste al pressing di Matteo Salvini, contrario all'introduzione estiva della Carta Verde. Garantire un agosto di vita, di turismo e di spostamento senza complicare la vita ai italiani che già hanno sofferto per un anno e mezzo. Rimandato a settembre il problema trasporti, passa però l'obbligo di Green Pass per tutto il personale scolastico, compresi professori e studenti universitari. Una decisione contro cui si scaglia l'opposizione, ma che soddisfa la maggioranza. Vaccini e Green Pass sono gli strumenti per mettere in sicurezza il paese e per riaprire le nostre scuole in presenza. Chi è contro il Green Pass? È contro la ripresa. La risposta è una sola, campagna vaccinale e Green Pass per tornare al più presto tutti alla normalità. Ancora da sciogliere il nodo lavoro, mentre 50 aziende nel Modenese proclamano uno sciopero dopo la morte dell'operaia Laila e Larim per mancate norme di sicurezza. Slitta venerdì il tavolo tra le parti sociali e i ministri Orlando e Speranza. Costruire regole che nascono al di là della loro fonte, ma che nascono da un dialogo sociale, perché credo sia l'unica strada attraverso la quale si può appunto cogliere l'obiettivo. Da domani per gli italiani entrano in vigore nuove regole. Il Green Pass sarà obbligatorio per andare in palestra e al cinema, teatri e musei o per mangiare nei ristoranti al chiuso. Unica eccezione, quelli degli hotel, ma solo per i clienti. In arrivo tamponi rapidi a prezzo calmierato, 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e a 15 euro per tutti gli altri. Allora, entriamo subito nel merito di quello che abbiamo ascoltato finora. Adesso poi sentiremo le notizie uscire in tempo reale, capiamo se su qualcosa abbiamo sbagliato. Però qualcuno già dice che ha vinto la linea Speranza, perché non si sapeva se alla fine sarebbe scattato l'obbligo per il personale scolastico e per gli universitari, per gli studenti, si è scelta questa strada. È la strada più giusta? Era l'unica percorribile? Guardi, intanto mi pare che vinca sempre la linea Speranza. E purtroppo era inevitabile che fosse così, perché quello che ho sempre tentato di far notare anche di fronte alla nascita del governo Draghi è che questo continua a essere un Parlamento che ha la maggioranza in mano agli stessi che già erano presenti nel precedente governo e quindi la continuità mi pare assolutamente totale. Sul tema delle misure, vede, io credo che non si capisca una cosa fondamentale. Gli italiani hanno aspettato i vaccini come se fossero chiaramente la soluzione di tutti i problemi. E sono stati pronti, seri, reattivi alla campagna. Da noi la campagna obiettivamente ha avuto dei problemi perché mancavano le dosi, non perché mancavano le persone che si volessero vaccinare. Poi c'è stata sicuramente molta confusione fatta da parte della politica che non ha aiutato, ma oggi i dati dell'Italia sulla vaccinazione rispetto alla media europea sono ottimi dati. L'Italia è una delle prime nazioni per vaccinazione in Europa. Quindi, francamente, che cos'è che io continuo a dire che non sono d'accordo? Non sono d'accordo sul fatto che si continuino a portare avanti misure che sono assolutamente irragionevoli ai fini del contenimento della pandemia, che creano devastazione, secondo me, alla nostra economia senza produrre niente di buono, e che si fanno delle cose che non hanno alcuna evidenza scientifica, come alcune delle cose che io ho letto come indiscrezione, per cui magari poi non sono vere, o che si sono già fatte. Per esempio? Scusi, quando si dice hai bisogno del Green Pass per entrare al bar se ti metti seduto, ma se prendi il caffè al banco, no. Hai bisogno del Green Pass se vai al ristorante, che è un ristorante, ma se vai al ristorante in un albergo, no. Hai bisogno del Green Pass se monti su un treno Roma-Milano, ma se monti su una metropolitana, no. Lei capisce? Sì. Allora, che cosa si sta facendo? E su questo io non sono d'accordo. Si stanno facendo delle misure che avranno un'efficacia ai fini del contenimento del contagio assolutamente limitata. Poi se vuole le spiego perché. Che per paradosso rischiano di allontanare la gente dalla disponibilità e dalla disposizione verso il tema del vaccino e che di fatto portano un obbligo vaccinale senza che il governo se ne assuma la responsabilità. E questo è il punto importante, perché sul fatto che ci sono mille contraddizioni è talmente palese, no. Uno dice, ma è possibile, il lavoratore al bar non è vaccinato, è vaccinato il cliente. Però le direbbero in molti che è la probabilità che diminuisce. Quindi io evito di fare cittadini di serie A e di serie B con la metropolitana che tutti devono prendere e cerco di ridurre le probabilità di contagiarsi. No, guardi, intanto lei non fa cittadini di serie A e di serie B. È sempre cittadino di serie B e stato di serie A. Le spiego perché. Sa perché sui mezzi di trasporto lo Stato dice che non serve il Green Pass? Perché loro non sono in grado di fare i controlli. Allora qualcuno mi può spiegare perché il ristoratore e il barista, che non sono dei pubblici ufficiali, devono essere messi nella condizione di fare dei controlli che lo Stato non si assume la responsabilità di fare dove gli compete. E questo è il gioco dello scaricabarie. Facciamo la cosa facile. Allora, ai fini del contenimento del contagio non ottieni niente. Perché scusi, io dall'inizio della pandemia io dico che il cluster numero uno sono i mezzi pubblici. I negazionisti della sinistra ci hanno detto per due anni che non c'era il Covid sui mezzi pubblici, poi sono andati a fare un controlluccio e hanno purtroppo dovuto dire quale fosse la verità. Però, giusto che ha anticipato i mezzi pubblici, le voglio chiedere perché in questo momento c'è sotto attacco un po' il lavoro del ministro Giovannini rispetto ai trasporti e si è detto tanto del governo Conte e lei trova che si è lavorato meglio per esempio sui trasporti e sulla scuola con il governo Draghi rispetto al governo Conte? Cosa è fatto il passo avanti? Non saprei, nel senso non ho esattamente il tema che pongo. Cioè, quando noi pensiamo di risolvere o diciamo che stiamo risolvendo il problema del Covid con la campagna vaccinale a tappeto poi torniamo un attimo sull'obbligo vaccinale che è un tema che mi interessa. Di fatto stiamo dicendo una cosa che non è vera. Cioè, quando il presidente Draghi dice in conferenza stampa, la precedente le persone che accedono nei luoghi dove si accede solamente tramite Green Pass hanno la garanzia di trovarsi tra persone non contagiose. Falso. Quello che noi oggi sappiamo dai dati è che tu, vaccinato o non vaccinato puoi contagiarti ed essere contagiato esattamente come un non vaccinato. Questo dicono i dati. Non esattamente come è più difficile contagiarsi per i vaccinati. Poi sono altrettanto... In teoria non dicono, ma comunque ti contagi di meno. Diciamo che ti contagi di meno. I dati in teoria non lo dicono, ti contagi di meno. Ma comunque ti contagi. Ok? Quindi noi il contagio non lo stiamo fermando. Allora, uno dei temi che io ho tentato di porre e tento di porre ogni giorno e per questo vengo molto redarguita perché quando uno fa delle domande a cui non si sa come rispondere ti appiccicano un'etichetta e dicono sei un mostro, sparisci così non ti devono rispondere. Ma ci sono passate tante di quelle volte. O magari sei no vax. O sei no. Eh, ma in questo caso l'etichetta è quella perché loro ogni volta che non sanno come rispondere ti appiccicano l'etichetta e dicono tu sei un presentabile quindi non ti devo rispondere a una domanda intelligente che mi hai fatto perché non ho una risposta intelligente da darti. Ma il tema qual è? Io continuo a chiedere sono stata da Draghi che cosa stiamo facendo per mettere in sicurezza la riapertura perché se il vaccino ferma l'ospedalizzazione l'aggravarsi della malattia è molto pare sia molto efficace in questo ma sul piano dei contagi non ti ferma il contagio o tu decidi che del contagio non ti interessa più oppure tu avrai un problema autobre avrai un problema io continuo a dire scusate noi pensiamo di risolvere tutto con l'obbligo vaccinale mascherato ma noi lo stiamo risolvendo quando mi si dice il Green Pass ci serve per non chiudere signori ad oggi non è vero oppure il governo mi deve dire io ti metto l'obbligo vaccinale mascherato non mascherato obbligo vaccinale adesso le spiego perché lo mettono mascherato però vi garantisco che voi non chiuderete qualsiasi cosa accada invece che dice oggi il governo che obbligo vaccinale di qua e di là il Green Pass ormai praticamente per uscire di casa e i comuni potranno chiudere le scuole e rimetterle in dad di fronte a casi diciamo significativi quindi loro non stanno escludendo le chiusure allora che cosa serve questa follia del Green Pass per entrare nei ristoranti che ha devastato la nostra stagione turistica perché anche qui io sarò Novax come dice la sinistra ma allora è Novax pure la Merkel è Novax il presidente spagnolo sono Novax in Grecia però lo stanno ascoltando adesso la Merkel ora il Green Pass nei ristoranti lo fa passare guardi la Merkel ha sempre detto come dice l'Unione Europea perché poi anche qua noi siamo europeisti quando ci pare quando l'Unione Europea un attimo un attimo un attimo quando l'Unione Europea ha attivato il Green Pass che era una iniziativa intelligente che io ho sostenuto serviva a favorire il turismo per passare da una nazionale all'altra e incentiviamo il turismo ok e nella norma sul Green Pass Europea c'è scritto che il Green Pass non può essere utilizzato per discriminare i cittadini quindi quello che sta facendo tecnicamente il governo italiano come ha fatto la Francia è qualcosa che è diciamo in violazione della normativa europea anche perché nessuno pensa a quelli che non si possono vaccinare però scusi i malati oncologici ma sembra che saranno esentati dicono oggi vedremo malati oncologici donne incinte che dovrà esserci un'esenzione non avranno bisogno di che faccia dopodiché scusi posso dire una cosa sull'obbligo vaccinale abbiamo tanti temi la dovrei tenere qua fino a domattina no dico solo una cosa io sono contrario all'obbligo vaccinale secondo me tra l'altro è inefficace proprio sul piano però ecco c'è tornata su questo perché dice che loro avrebbero dovuto prendersi la responsabilità lei crede? sa qual è la differenza tra mettere l'obbligo vaccinale e imporre un obbligo vaccinale di fatto senza metterlo? certo che la responsabilità non è tua e nel caso dell'obbligo vaccinale lo Stato è tenuto a risarcirti se qualcosa va storto invece quando noi andiamo a fare il vaccino per avere il green pass per poter mangiare in un ristorante noi firmiamo uno scarico di responsabilità e ci assumiamo la responsabilità di quello che il governo ci sta forzando a fare o ci sta diciamo fortemente incentivando a fare io penso che se il governo è convinto di quello che sta facendo io non sono d'accordo ma si assume la responsabilità di mettere l'obbligo la lega ha cercato molto di mediare poi mi dice anche se secondo lei c'è riuscita dall'interno che è la ragione per cui dice di essere al governo rispetto a voi e quindi alla fine ha fatto questa via di mezzo che è il green pass che è un obbligo mascherato come dice lei guardi a me non pare che Draghi francamente abbia il problema di imporsi quando si vuole imporre mi pare che abbia tutta l'autorevolezza per imporsi e per questo rimango stupita che una figura del calibro di Mario Draghi poi faccia quello che dice Roberto Speranza per questo non ci serviva Mario Draghi quindi dice in realtà lui non voleva l'obbligo però io non lo so che cosa lui volesse ma parto dal presupposto che è lui che decide essendo Mario Draghi non è uno a cui si può dire ho dovuto mediare la maggioranza se si fa quello è quello che Mario Draghi vuole fare io non sono d'accordo non sono d'accordo per tutte le ragioni che le ho spiegato credo che siano misure che ci devastano l'economia che non producono assolutamente niente che ci porteranno comunque a un problema di contagio che nessuno sta affrontando perché tutti parlano solo del Green Pass mi dicono che nel frattempo Speranza ha detto che il Green Pass è una misura per la libertà suppongo che lei non sia d'accordo ma direi che me l'ha articolato non mi pare una misura per la libertà guardi questo è un altro grande tema perché noi di fatto non ci rendiamo conto che oggi stiamo facendo una cosa che nelle realtà democratiche è molto forte cioè decidere che cosa un cittadino può fare e di limitare la sua libertà mi aspetto almeno che se si limita la libertà dei cittadini lo si faccia sulla base di evidenze scientifiche chiare queste evidenze non ci sono le cose che io le ho detto prima le fortissime voglio dire contraddizioni che ci sono in questi provvedimenti dicono che sono provvedimenti presi per scelta politica la scelta politica di costringere la gente a farsi il vaccino e non assumersi politicamente la responsabilità di aver obbligato a fare il vaccino questa roba qui lo scarico sulla tua pelle mi dica se secondo lei la lega è riuscita nell'opera di mediazione che voleva fare hanno fatto 900 emendamenti lo sa volevano fare le barricate per portare un po' Draghi verso il loro punto di vista ci sono riusciti? per carità sicuramente insomma io rispetto del lavoro che la lega fa all'interno del governo il problema è che i numeri non li aiutano non ci aiutano non aiutano complessivamente il centrodestra e mi pare che su queste materie ci sia anche una forte tendenza come dicevo del presidente del consiglio che è quello che potrebbe spostare diciamo il fronte verso le scelte di Roberto Speranza perfetto questo è importante allora prima di passare ad altri temi perché ci abbiamo molte cose da dire voglio sapere perché le dicono che è Novax lei pensa in fede di essere stata in qualche modo ambigua su questo tema di non aver fatto capire quali fossero le sue posizioni ma guardi io e lei stasera stiamo parlando di questo tema le pare che le mie posizioni siano ambigue torniamo sulla questione io da sempre mi scontro con questo problema quando la sinistra non sa come rispondere a domande ragionevoli l'unica cosa che può fare è scappare dalla domanda per scappare dalla domanda deve dire tu sei un impresentabile per cui se provi a chiedergli perché per esempio in questi giorni gli italiani che non hanno il green pass non possono entrare al ristorante ma gli immigrati clandestini possono entrare in Italia senza green pass e possono pure rifiutarsi di fare il vaccino e rifiutarsi di fare il tampone come fanno e loro ti dicono razzista perché non sono in grado di rispondere a questa domanda così come fanno su tutto ma siccome qui noi stiamo parlando del futuro dell'Italia e della salute della gente io non mi faccio spaventare sono una persona che continuerà a fare domande e molto spesso le dico in passato mi pare che abbiamo avuto ragione scusi a me hanno detto anche per un anno e mezzo che ero negazionista però rispetto al covid però ricordo che quando io chiedevo la quarantena per chi rientrava dalla Cina Zingaretti faceva la veritiva abbracciava i cinesi quando io chiedevo di potenziare mezzi pubblici mi dicevano che su mezzi pubblici il covid non c'era quando chiedevo di fermare l'immigrazione clandestina mi dicevano che sui barconi il covid non viaggia mi pare che l'abbiano negato loro il virus non è però per te pochi esponenti della Lega erano in piazza nella piazza Novax di Fratelli d'Italia non c'era nessuno si è detto l'opposizione la Meloni fa l'opposizione con più stile di quanto la Lega stia al governo è una questione di stile noi stiamo lavorando abbiamo portato i nostri emendamenti io sono scesa in piazza per esempio un altro tema che mi pare molto interessante sono scesa in piazza l'altro giorno con molti medici che si occupano delle terapie domiciliari ci sono dei gruppi di medici che si sono diciamo auto-organizzati e che hanno dimostrato loro sostengono e hanno dimostrato che curando nelle prime 72 ore il covid con diciamo normali farmaci da banco con alcuni integratori l'ospedalizzazione sarebbe pari a zero hanno chiesto di essere diciamo auditi di poter approfondire il ministero della salute il senato ha approvato una mozione all'unanimità per chiedere a Speranza di approfondire questo tema e Speranza ha fatto ricorso contro la mozione del senato capisce che ci sono cose irragionevoli ve ne dico una oggi noi chiediamo tamponi gratuiti per tutti perché il tampone ti dà quello sì la garanzia di avere accanto una persona che non è contagiosa molta più molto più tecnicamente del green pass con il vaccino ma hanno risposto scusi che il tampone gratuito è un disincentivo rispetto al vaccino ma scusi ma l'obiettivo qual è? fermare il contagio o vendere i vaccini? mi ha già risposto perché se i tamponi fossero gratuiti in qualche modo non ci sarebbero più cittadini di serie A e di serie B esattamente allora dice no è disincentivo rispetto al vaccino ma il problema è fermare il contagio essere sicuri che il contagio lo è o è vendere i vaccini ma che c'abbiamo? il governo che fa il marketing dei case farmaceutiche perché lei capisce che lì uno il dubbio gli viene sono anche saliti i prezzi senta è iniziato il semestre bianco mi sa che lo sa anche lei però io te lo faccio vedere Claudio Rinaldi si aprono le gabbie ed inizia la battaglia l'abbiamo visto qualche ora fa direttamente alla Camera dei Deputati quando si è sfiorata la rissa tra alcuni deputati di sinistra e del Partito Democratico il 3 agosto è iniziato il semestre bianco il periodo che impedisce al Presidente della Repubblica di sciogliere le camere dunque alcuni partiti che sostengono il governo Draghi potrebbero maturare la tentazione di andare all'opposizione è un semestre nel quale continueremo l'attività del governo e della maggioranza come negli ultimi mesi e mi auguro che possiamo continuare a portare importantissime riforme per il nostro paese non è che la maggioranza rischia? assolutamente no no è sicuro? sì adesso occorre verificare il vero senso di responsabilità dei partiti Forza Italia resta nel governo? Forza Italia resta nel governo perché Forza Italia e il Presidente Berlusconi sono stati i primi a invocare un governo dei migliori ma non è che Salvini ha la tentazione di tornare all'opposizione visto il semestre bianco? assolutamente perché la lega è in questo governo perché il garante di fronte agli italiani altrimenti ci sarebbe stato un governo estremamente orientato a sinistra quindi siamo noi a fare da vigilantes Letta e Salvini già litigano oggi quello che può succedere domani nel semestre bianco non fa ben sperare io invece ben spero ci saranno divergenze perché affrontiamo temi difficili e anche inediti però l'obiettivo finale la sintesi finale è il bene del paese allora da questo momento dice non sarà più solo all'opposizione ci aspettiamo che cominci il circo tra i partiti? io lo dissi a Mario Draghi quando si votò la fiducia al suo governo stai attento Mario no gli dissi in aula nel mio intervento per annunciare il nostro no alla fiducia gli dissi guardi lei oggi li vede tutti plaudenti ma quando scatterà il semestre bianco potrebbe non essere più così nel senso che questo è un Parlamento lo sappiamo fatto per lo più di persone che rischiano di non essere rielette tra il taglio dei parlamentari le oscillazioni che ci sono state nel consenso dei vari partiti e quindi è inevitabile che il governo allora servisse per garantire che la legislatura sarebbe arrivata alla fine adesso che il problema non c'è più di persone che scopriranno improvvisamente di avere bisogno di un momento maggiore di celebrità ne vedremo tante io posso solo rivendicare le scelte che ha fatto Fratelli d'Italia che non sono mai state scelte di interesse ma sempre scelte di convinzione ma secondo lei è quello che sta pagando tanto nei sondaggi? io penso di sì penso che gli italiani si rendano conto che bene o male Fratelli d'Italia è un partito che dice una cosa e fa quella cosa e guardi dovrebbe essere una precondizione secondo me nella politica c'è la famosa coerenza che è considerata la nostra grande dote per me è una precondizione perché tu sei coerente quando ci credi in quello che dici no se non sei coerente vuol dire che hai raccontato cose nelle quali tu non credevi però sicuramente in questo noi siamo un unicum cioè non c'è trucco e non c'è inganno magari non condividi tutto ma sai che hai una persona che è una persona delle persone che di fronte ti dicono una cosa non ha fatto il governo giallo-verde non è entrata qui che cosa quando noi siamo andati all'opposizione oggi dicono tutti la Meloni ha fatto la scelta facile e comoda dell'opposizione ma immagino che lei ricorderà perché è una persona intellettualmente onesta che quando noi abbiamo fatto la scelta dell'opposizione ci hanno detto preparate i funerali di Fratelli d'Italia è arrivata la marginalizzazione quindi non era una scelta comoda ma se Draghi resta lì anche dopo il 2023 li prepariamo i funerali di Fratelli d'Italia? no guardi non li prepariamo comunque niente ma intanto i funerali di Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia esiste da quasi dieci anni penso che l'abbiano preparato tutti gli anni quindi ma alla fine siamo un po' duri a morire siete ancora qui ma mi dice invece che succede nel centrodestra perché ogni volta che lo chiediamo lo chiediamo a Salvini e ci dicono no siete voi giornalisti che ricamate allora gliela dico io e mi dica se è giusta Berlusconi sta mediando e si applica per cercare di tenere tutti insieme vi siete incontrati ha avuto buon esito abbiamo letto così l'incontro però adesso com'è l'equilibrio nel centrodestra? veramente sono io che mi applico per tenere tutti insieme da sempre mi pare che Fratelli d'Italia sia il partito che si applica di più per tenere tutti insieme sa perché? perché noi non abbiamo un piano B essendo un partito monogamo la nostra unica possibilità di dare a questa nazione il governo che vogliamo darle è il centrodestra mentre loro sono più mutevoli gli altri sono diciamo più libertini come vogliamo dire subiscono più il fascino ed è esattamente questo che io ho chiesto alla coalizione ho chiesto a Silvio Berlusconi quando l'ho incontrato cioè voglio capire dai miei alleati se anche loro considerano diciamo l'orizzonte del 2023 il centrodestra o se prendono in considerazione altre strade se ritengono che l'esperienza della maggioranza arcobaleno PD 5 Stelle e chi più ne ha più ne metta sia transitoria accidentale dovuta al covid ma comunque abbia una scadenza inequivocabile oppure no questo mi interessa perché alcune cose che sono accadute in queste settimane io credo nella coalizione e sono legatissime alla coalizione però francamente mi hanno molto colpito cioè quando vedo esponenti di un partito di un centrodestra che fanno il plauso al PD perché attacca un esponente di Fratelli d'Italia io mi preoccupo perché è una cosa del genere noi non l'abbiamo mai fatta quindi ho chiesto chiarezza mi pare che Berlusconi abbia risposto con altrettanta chiarezza di essere convinto che il centrodestra sia l'orizzonte che quindi bisogna lavorare per così in questa ottica poi chiaramente mi aspetto segnali concreti in questo senso perché ecco però io le domando l'altro giorno quella del papete alla festa di Milano Marittima sembrava un'incoronazione di Salvini come leader del centrodestra è stata letta così un po' un po' da tutti quanti lei parla ancora adesso di una leadership del centrodestra contendibile come ci ricordavamo anche noi dove è la verità è contendibile o è Salvini il leader del centrodestra? No mi pare che la leadership la diciamo la premiership eventuale di una vittoria sia assolutamente contendibile secondo le nostre regole è sempre stato così del resto guardi quando nelle ultime elezioni politiche la Lega è arrivata prima primo partito del centrodestra nessuno come me ha chiesto nessuno ha chiesto più di me che a Salvini fosse dato l'incarico di formare il nuovo governo perché per me le regole valgono io ne ho parlato con Berlusconi come lui ritiene come pensa che funzionino le regole e lui mi ha confermato di ritenere che da noi il fatto della contendibilità della leadership cioè di farla scegliere agli italiani non è un problema di contendibilità è noi siamo una coalizione che crede che i cittadini debbano contare quindi a loro chiediamo chi debba guidare un eventuale governo un'eventuale coalizione mi pare che su questo siamo tutti d'accordo lei si fida di Salvini? ma sì io mi fido di Salvini e mi fido del lavoro che abbiamo fatto insieme perché poi voglio dire le regole alla fine servono a tutti no? cioè le regole servono sempre a tutti per questo io mi batto sempre quando le regole non si rispettano tanto perché sono una persona di destra e si sa che da noi le regole hanno un valore per sinistra no invece ma poi perché sono una garanzia sono oggettivamente una garanzia un po' più anarchica non si sa si sa e poi perché sono una garanzia per tutti sia quando ti va male che quando ti va bene insomma allora purtroppo io la devo salutare perché abbiamo finito il nostro tempo e comincia la pubblicità grazie a Giorgio Meloni in bocca al lupo e ci vediamo spero molto presto noi ci vediamo tra pochissimo e proseguiamo grazie a tutti